pomeriggio nelle terre alte per il vicepresidente del consiglio Antonio Tajani nella sua agenda le visite al museo dei belunesi nel mondo e poi a confindustria inevitabile anche se non è sua competenza parlare di olimpiadi con la grande preoccupazione che cortina d'ampezzo si veda togliere il bob senza che le venga assegnata nessun'altra gara il problema è che qualche cosa non ha funzionato c'erano i fondi c'era nel tempo per farlo non ho capito perché non si è lavorato per realizzare l'impianto di cortina in modo che potesse essere competitivo e potesse essere utilizzato se non si possono fare a cortina come sarebbe stato giusto fare bisognava fare tutto per farla a cortina allora facciamo un'altra parte in italia poi si cercherà di compensare in qualche modo cortina con eventi con iniziative però non ripeto non dipende dal governo dipende dal cio io li avrei fatti svolgere a cortina però se non c'è cortina troviamo un'altra località italiana certamente non all'estero in casa degli industriali dove la presidente loren berton ha messo nuovamente l'accento sulla questione olimpiadi minacciando anche azioni legali se non ci sarà una redistribuzione delle gare inevitabile affrontare anche il tema della legge per la montagna da cui itinere può dipendere il futuro delle terre alte noi stiamo lavorando intensamente abbiamo anche fatto a portare alcune modifiche la proposta di calderoli che riguarda anche le professioni di montagna e noi stiamo cercando e siamo riusciti a far accettare da lui il consiglio dei ministri alcuni correttivi per alcune professioni specifiche della montagna perché possono essere riconosciute prima non lo erano ma io sono ottimista e finalmente si dà un segno di grande attenzione alla montagna perché ritengo che le montagne come tutte le aree interne debbano essere curate con la massima attenzione da parte del governo da parte della politica